Tuo padre non ti ha regalato un'infanzia normale, ma stai per iniziare il liceo. E questa è la tua possibilità di ricominciare. Promettimi che proverai a vivere come una ragazza normale. Lo giuro, potessi morire. Bene ragazze, possiamo cominciare. Mindy, tocca a te. Quattro aggressori. Nessuna via di fuga. Fatevi sotto, brutti stronzi. Non sei stanca di lottare da sola? Non vuoi far parte di qualcosa più grande di te? Insieme facciamo la differenza. Oh sì! Che ne dici? Ci stai? Perché no? E divertitevi. Altrimenti, che senso ha? Non mi serve passare i prossimi quattro anni della mia vita a capire chi sono. Perché lo so già. Sono Hit Girl. Forse sei lesbica. Forse ti fico il piede su per il culo. Forse sei lesbica. Forse sei lesbica. Grazie a tutti